Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Iniziamo con le notizie che arrivano da Torino. Nel santuario della Consolata sta pieno di persone. Sono svolti i funerali di Antonella Sesino e Orazio Conte, le due vittime torinesi degli attentati al Museo del Bardo di Tunisi. A ufficiare la messa c'è stato l'Arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia insieme al Cardinale Poletto. Il capo della diocesi torinese ha parlato di una follia omicida così brutale, irrazionale e disumana che lascia attoniti e sconvolti. Ma sentiamo in particolare questo servizio di Carlo Ruffino. Due lunghi applausi in una piazza sprofondata nel silenzio hanno accompagnato l'ingresso dei feretri di Antonella Sesino e Orazio Conte nel santuario della Consolata. Non abbastanza grande per accogliere il fiume di persone, familiari, amici, colleghi, arrivato per dare l'ultimo saluto ai due torinesi uccisi negli attentati in Tunisia. Dal municipio dove fino alle 13 era allestita la camera ardente si è mosso il corteo funebre in prima fila ai figli poco più che ventenni di Antonella Sesino, Giacomo e Simone con l'ex marito Lorenzo Barbero e i familiari di Orazio Conte, l'informatico con la passione per la musica testimoniata dal violino e dallo spartito posati sulla bara. Per assistere all'esequio si è fatta trasportare in ambulanza dall'ospedale CTO dove è ricoverata anche la moglie Carolina Bottari, impiegata del comune di Torino, rimasta ferita nell'attacco al museo del Bardo. Fuori dalla chiesa, accanto alle corone di fiori della presidenza del Consiglio, di Camera, Senato e della Costa Crociere, tre teli bianchi rendono omaggio alle vittime. Non è giusto morire così, si legge su uno di questi, concetto ripreso dall'arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia che nella sua omilia ha parlato di una follia omicida così brutale, razionale e disumana che ci lascia attoniti e sconvolti per cui non riusciamo e non possiamo comprenderla. Seduti nelle prime file della Basilica, accanto alle famiglie e ai parenti, il sindaco di Torino Fastino, il presidente della Regione Chiamparino e del Consiglio regionale Mauro Laus a rappresentare il governo e il vice ministro alla giustizia Enrico Costa. In disparte, tra la folla commossa anche l'ex modella tunisina Afef. Sono qui perché la Tunisia mi ha chiesto di rappresentare il mio paese, ha fatto sapere tra le racrime a fianco al console e all'ambasciatore tunisino in Italia, Mestir Naceur. Il diplomatico stamane ha incontrato il sindaco e i familiari delle vittime e ha annunciato che domenica la Tunisia scenderà in piazza per una grande manifestazione contro il terrorismo. Il 18 marzo, ha detto, resterà nella memoria come un momento nero della nostra storia. Per tutta la mattinata intanto è proseguito il via vai di Torinesi in Comune, dove da ieri era allestita la camera ardente. È una tragedia che per noi è incomprensibile. Nessuno riesce a capire di noi gente normale cosa sta succedendo. Tutto lì. E poi vedere queste cose mi hanno veramente, mi hanno scioccato. Poi, dico la verità, mi sono commossa e lo sono ancora. Colpo di scena sulla travagliata vicenda del terzo valico in costruzione tra Genova e Tortona. Anche Lega Ambiente nazionale, stavolta a sorpresa, annuncia di aver cambiato posizione e si schiera contro la realizzazione del terzo valico. Lega Ambiente chiede di fermare immediatamente i cantieri e lo ha annunciato durante l'ultimo incontro sul terzo valico che si è tenuto ad Arquata Scriva. Vediamo di più nel servizio di Enrico Maria. Dall'azzeramento della legge obiettivo al rafforzamento del trasporto ferroviario pendolare sino alla presentazione di cinque proposte al governo Renzi. Questo è il sunto della giornata di studi intitolata Fuori dal tunnel, inutilità e danni delle grandi opere, promossa da Lega Ambiente ad Arquata Scrivia, comune interessato dal progetto del terzo valico dei Giovi. Edoardo Zanchini e Fabio Dovana, rispettivamente vicepresidente nazionale di Lega Ambiente e presidente di Lega Ambiente Piemonte e Valle d'Aosta, hanno dichiarato che quello del terzo valico, come quello della TAV in Valsusa, sono progetti insensati dal punto di vista dell'utilità rispetto agli studi sul flusso delle merci e rispetto al sottoutilizzo e alla completa disattenzione per le linee storiche. Dopo i fatti di questi ultimi giorni, Lega Ambiente ha chiesto al governo di fermare immediatamente i cantieri delle grandi opere e di ripensare l'elenco delle infrastrutture strategiche su basi oggettive, dando priorità alla mobilità urbana. Per Lega Ambiente occorre tornare a investire sul trasporto ferroviario pendolare e al contempo ridurre la quota di trasporto merci che viaggia su gomma mettendo ordine nelle accise e investendo nella logistica e su progetti che risolvano problemi di congestione e di connessione. Lega Ambiente ha tracciato in cinque punti la sua personale via d'uscita dal sistema delle grandi opere, partendo innanzitutto dall'abolizione della legge obiettivo. Per Lega Ambiente bisogna poi fermare immediatamente i progetti e i cantieri di grandi opere ritenute inutili come il Terzo Valico e l'alta velocità Torino-Lione ed azzerare i finanziamenti pubblici alle autostrade. L'obiettivo per l'associazione deve essere quello di liberare risorse per un rilancio del trasporto ferroviario pendolare che porti al raggiungimento di 5 milioni di cittadini trasportati nel 2020 con un programma decennale che preveda almeno 300 milioni di euro di risorse statali l'anno per l'acquisto di treni regionali. Per ottenere invece una riduzione di almeno il 20% della quota di trasporto merci che viaggia su gomma, Lega Ambiente propone al governo Renzi di mettere ordine nel sistema delle accise dei trasporti e di investire nella logistica e nell'offerta di servizi efficienti, concorrenziali e integrati. Infine, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca, per Lega Ambiente è necessario cancellare il general contractor, vietare i subappalti nei cantieri ed intensificare i controlli attraverso commissioni di controllo specifiche. Ogni giorno che passa e ogni metro in più costruito sono soldi sottratti alle vere priorità di investimento, ha sottolineato Paola Lugaro, presidente del circolo di Lega Ambiente Vallemme. In particolare, per quanto riguarda il terzo valico, occorre procedere rapidamente alla nomina del nuovo commissario straordinario in sostituzione di Walter Lupi, con il compito di decommissionare l'opera ed avviare rapidamente la risistemazione del territorio e la chiusura definitiva dei cantieri. Incidente mortale oggi pomeriggio in frazione San Giuliano Vecchio di Alessandria, due persone a bordo di un'auto, un uomo e una donna, sono stati i protagonisti di questo incidente. Alla guida della vettura c'era di una Fiat Panda, c'era Gino Turetta di 64 anni, abitava alla frazione Levata di Bosco Marengo con accanto la moglie. Giunto nell'abitato di San Giuliano Vecchio, Gino Turetta, ha perso il controllo dell'auto e dopo aver ripetutamente sbandato è finito abbattendolo contro il cancello di un'abitazione. L'urto è stato violento, l'uomo è morto sul colpo. La donna invece soccorsa e trasportata in ospedale ad Alessandria guarirà in pochi giorni. Sulle cause dell'incidente si ipotizza che potrebbe essere stato un improvviso a un malore dell'uomo che era alla guida della Fiat Panda. Due marocchini che domenica pomeriggio hanno provocato un incendio all'interno di un'abitazione dell'ATC situato in Piazza Santo Stefano ad Alessandria sono stati arrestati per resistenza pubblico ufficiale e incendio doloso. A dare l'allarme sono stati alcuni abitanti di via Verona, i quali alla vista di un'intensa nube scura che proveniva dall'abitazione dei due marocchini hanno chiamato i pompieri. Poco prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, i due piromani alla vista degli agenti di una volante hanno cercato di fuggire. Prontamente bloccati dai poliziotti, uno dei fuggitivi nel tentativo di divincolarsi non ha esitato a colpire uno dei poliziotti sferrando calci e pugni. La mano lunga della camorra napoletana era arrivata anche in provincia di Alessandria. A Valenza la polizia, su disposizione della direzione distrattuale antimafia del Piemonte, ha posto sotto sequestro una serie di appartamenti e la sede di una società immobiliare di proprietà di un boss del clan camorristico dei Casalesi. Ma sentiamo di più nel servizio di Franco Capone. Le lunghe mani della camorra sulla città di Valenza. Lo hanno accertato gli uomini della direzione distrattuale antimafia di Torino che con la polizia di Stato conduce un'inchiesta sull'imprenditore Maurizio Capolongo, 53 anni, ritenuto elemento di spicco del clan camorristico dei Casalesi arrestato nei mesi scorsi ad Aversa nel Casertano. Le indagini della polizia avrebbero accertato l'enorme patrimonio evidenziando la sospetta origine illecita dei beni e la loro sproporzione rispetto ai redditi dichiarato dal boss napoletano. Da poche ore infatti si è concluso un maxi sequestro di beni al valore di oltre 10 milioni di euro di proprietà del boss della malavita partenopea il quale fra Caserta e Napoli aveva anche in Piemonte a Valenza. creato una base logistica fra i beni sequestrati due mega appartamenti situati nella centralissima città del loro dove tra l'altro aveva istituito una società di comodo ricavata in una delle due palazzine ed è stato proprio nel corso di una perquisizione effettuata all'interno della società di Valenza che la polizia ha rinvenuto documenti importanti che comprovano l'immenso patrimonio che in un paio d'anni aveva realizzato. Fra i documenti rinvenuti la società immobiliare di Valenza, terreni, conti correnti, bancari, in parte intestati ad insospettabili personaggi. Documenti che ora sono al bagno della magistratura. Ma chi sono i personaggi che a Valenza e ad Alessandria facevano affari con il camorrista? Le indagini della Polizia di Stato e la questura di Alessandria proseguono. Fra i filoni di inchiesta degli affari leciti di Maurizio Capolongo alcune iniziative imprenditoriali sul territorio. Il clan da lui capeggiato, infine, oltre a gestire il settore delle scommesse clandestine di Totonero, possedeva anche una gioielleria a caserta ed è per questo che la direzione istituale del Piemonte vuole accertare da chi il boss comprava a Valenza oro e gioielli per poi rivenderli in Campania. Le prossime due notizie hanno come protagonisti due bande di mini ladri, una costituita da ragazzini e l'altra da ragazzine. Nella prima, 5 ragazzini, tra i quali due di nazionalità italiani, due marocchini ed uno di nazionalità kossovara, avevano formato una banda di mini ladri che da tempo agiva in Alessandria. Non è escluso che ci sia anche un sesto complice del quintetto che da indiscrezioni sembra sia un kossovaro di 17 anni a capo dell'organizzazione minorile. Dopo l'ennesimo colpo ai danni di un esercizio commerciale situato al quartiere Orti di Alessandria, il quintetto, su segnalazione del responsabile del servizio della questura, è stato individuato e fermato nei pressi dello stadio Moccagatto. Dopo una perquisizione personale effettuata sui ragazzini, la polizia ha rinvenuto numerosi oggetti che erano stati trafugati. Condotti in questura e foto segnalati, tutti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dei Minori di Torino. La polizia è ora alla ricerca del capo della mini banda. Invece tre ragazze, tutte di 15 anni e compagne di scuola, una delle quali della provincia di Vercelli, l'altra di Casale e la terza di Spianetta Marengo, sono state sorprese a rubare all'interno di un negozio di via San Lorenzo ad Alessandria. Oltre alla merce trafugata nel negozio via San Lorenzo, i carabinieri sono accorti che le tre ragazzine erano in possesso di altri oggetti, di bigiotteria, creme, cosmetici, profumi ed altro per un valore di circa 200 euro rubati in altri negozi di Alessandria. Le tre mini ladre sono state denunciate alla Procura della Repubblica dei Minori per furto aggravato e poi riaffidate ai loro rispettivi genitori. E la scorsa notte i carabinieri hanno eseguito e fermato a Valenza una vettura con targa francese, una Opel Zaffira con alcuni personaggi a bordo. Il conducente dell'auto, alla vista dei carabinieri che avevano i lampeggianti accesi, ha tentato di fuggire ma poco dopo in via Bellini veniva bloccato. Dall'interno sono scesi due uomini che sono dati alla fuga mentre il conducente dell'auto, un algerino irregolare sul territorio, è rimasto sulla vettura. Nel bagagliaio della Opel i carabinieri hanno rivenuto 12 fasce di cavi elettrici in rame, circa 4 quintali. L'algerino inoltre era in possesso di una pinza multiuso di quelle usate dai tecnici dell'alta tensione delle ferrovie. Anche l'oro rosso recuperato sarebbe materiale rubato lungo tratti delle stazioni ferroviarie. L'algerino è stato arrestato, dopo il processo sarà estradato. I carabinieri sono ora alla ricerca degli altri due uomini, forse romeni, fuggiti al momento del fermo. Cronaca giudiziaria, il giudice del lavoro applicando la legge Fornero sentenzia che il licenziamento è legittimo e condanna l'azienda a reintegrare il dipendente. Si tratta di un'azienda di servizi logistici. Ma ci racconta tutto Emma Camagna. Sollecita il pagamento delle proprie aspettanze e viene licenziato, anche se nel provvedimento si parla di giustificato motivo soggettivo, cioè non aver lavorato bene. Circostanza non emersa, però, mancando una contestazione disciplinare. Fa causa il giudice del lavoro e gli dà ragione, dichiarando il legittimo provvedimento e ordinando la reintegra nel posto occupato, con condanna a corrispondere un'indennità pari alla retribuzione dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, oltre ad accessori di legge e contributi assistenziali e previdenziali. A fare ricorso Bruno Gianluca Passalacqua Alessandria ad essere condannato il centro logistico servizi di Fubine, che si occupa della distribuzione di corrispondenze pacchi tramite l'unità Global Express di Alessandria. Il giovane, allontanato dal lavoro prestato dal 20 gennaio al 4 ottobre 2014, si è rivolto al giudice civile impugnando il licenziamento in base alla legge Fornero. La contestazione fatta e inviata dopo lettera era così generica da risultare incomprensibile e l'azienda ha violato il principio che impone al datore di lavoro di portare il codice disciplinare a conoscenza dei dipendenti. Così hanno fatto osservare nel ricorso i legali del giovane. Le nuove norme ministeriali che interessano il settore vitivinicolo e che cambiano alcune regole della tenuta dei registri sono state illustrate nel corso di un convegno organizzato dalla CIA, la Confederazione Italiana di Agricoltori, a Dovada. Ce ne parla Bruno Mattani. Nuove norme ministeriali che riguardano il settore vitivinicolo, che cambiano adempimenti e regole nella tenuta dei registri, che interessano le attività e le registrazioni del settore. La divulgazione delle nuove regole che introducono la telematica sono ben spiegate dalla Confederazione Italiana di Agricoltori. Ce ne parla Franco Piana, responsabile provinciale del settore vitivinicolo. Queste novità relativamente alla dematerializzazione dei registri è diventato un decreto firmato proprio oggi dal ministro, pertanto le norme sono già in vigore. Tutti coloro che sono obbligati a detenere dei registri vitivinicoli avranno l'obbligo di trasformare questi registri cartacei in telematico, praticamente la dematerializzazione dei registri. Quasi tutti sono obbligati, tranne alcune aziende che sono esonerate da questa tenuta dei registri contabili. Ad esempio tutti gli operatori che hanno uno stabilimento enologico, quindi una cantina, che la capacità totale di questa cantina non supera i 50 ettolitri, quindi non di produzione ma di capacità della cantina. Sono esonerati anche tutti coloro che producono vino direttamente dalle proprie uve o prevalentemente dalle proprie uve e che non fanno nessuna manipolazione e non imbottigliano, quindi vendono vino sfuso. Tutti gli altri devono detenere questo registro sul supporto telematico che è fatto attraverso il sistema informatico nazionale agricolo e queste registrazioni avverranno direttamente sul sistema telematico e non più sul cartaceo. Quindi è un impegno non da poco anche perché si può anche dire che l'informatica entra nei vigneti? L'informatica entra più che nei vigneti nella gestione burocratica come ormai siamo abituati, anche nei vigneti comunque, ma anche nei vigneti diciamo che esiste questa cosa. E per alcuni potrebbe essere un impegno oneroso a livello burocratico, anche perché ci sono le associazioni che sono disponibili per fornire questo servizio. C'è sempre un risvolto della medaglia, è un maggior controllo contro la sofisticazione ma è comunque attualmente un onere in più per l'azienda agricola a livello burocratico perché comunque diciamo che il mondo agricolo in quasi totalità non è coperto dalla banda larga, quindi anche l'accesso al sistema informatico tramite internet non è agevolato proprio perché non c'è la banda larga su buona parte del settore agricolo regionale. Ma in questo caso la soluzione è la confederazione qui? Potrebbe essere la confederazione, speriamo che tutto possa migliorare. Anche ad Alessandria ritorna a mobilitarsi l'associazione Familiari Vittime della Strada. Domani, martedì 24, a pomeriggio, si terrà una manifestazione in Piazza della Libertà davanti alla Prefettura, per la precisione alle ore 17. Per l'associazione, il motivo per cui si rende necessaria questa dimostrazione è la recente sentenza della Cassazione sul terribile incidente dell'A26 avvenuto in provincia di Alessandria in cui persero la vita quattro ragazzi francesi. Insieme all'associazione Familiari Vittime della Strada, in Piazza della Libertà sarà infatti presente una delegazione francese per chiedere che anche in Italia si possa ottenere più giustizia sulle stragi stradali. Il presidente dell'associazione Familiari Vittime della Strada, Ezio Bressan ha dichiarato che l'ultima sentenza, quella della Cassazione, sulla strage dell'A26 ha creato una catena di solidarietà tra tutte le associazioni cittadini davanti a tutte le prefetture e quindi ci sarà questa campagna di sensibilizzazione indirizzata al governo. Aggiunge, da quando abbiamo fatto la nostra proposta sono passati ben sei governi di colori differenti. L'obiettivo quindi è quello di modificare l'articolo 539 del codice penale, un articolo che permette la certezza della pena. In caso di conclamata colpa dell'autore e dell'imputato, la pena minima che chiediamo è di 12 anni. Con questa notizia siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con informazione. Tra pochissimo ci sarà lo sport, dopo la pubblicità, prima un'anticipazione l'Alessandria Calcio è uscita indenne dal difficile incontro di Arezzo, portando a casa un punto utile per rimanere aggrappata alle squadre che lottano per la promozione in Serie B. Per il prossimo incontro di Bassano, il presidente dei Grigi, Luca Di Masi, vuole tutti i tifosi in trasferta e la società è pronta ad alleggerire le spese di viaggio e non solo, la trasferta in pullman dovrebbe costare intorno ai 10 euro. Per la pagina sportiva invece di oggi parleremo del derby di basket tra Casale e Biella. Poi sentiremo come sarà il tempo nelle prossime ore e ancora le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni.